No, ricordiamo il nostro indirizzo email che è tennischiocciolaskytv.it Vedi che l'ho imparato? Io non sei un mica Ti ricordi anche l'indirizzo che di solito è E' serio, cioè si impegna, ha un buon allenatore Insomma, non capisco perché non si è riuscito Quindi mi vengono dei dubbi, ecco Sai, a volte, Marino, il concetto di fondo è che E anche dal punto di vista tecnico Cioè non si può dire gioco così e questo è il mio modo di giocare Bisogna cercare di migliorare sempre Federer gioca meglio adesso di quattro anni fa Allora perché ci riesce il numero uno e gli altri no? Che potrebbe anche mettersi a trovare la prima poltrona disponibile e sdraiarsi Un salto di qualità nel rovescio straordinario Che adesso è diventato un colpo quasi più Guarda questo colpo qui Questa voglia di rovescio Ugualmente la... 40-30 40-30 Con Federer che serve Qualificazione Qualificazione Benjamin Becker che ha giocato molto bene all'Open degli Stati Uniti Come no? Benetto che ha giocato bene all'Open di Francia C'è Mirni Mathieu C'è una qualificazione micidiale La voli di rovescio di Federer Felicisiero e Finna Felicisiero e Finna 30-0 Quel tanto che basta con la voli di dritto Federer 40-0 40-0 Che si fidanzò Tutti gli amici Però Ne ha fatta distratta Perché è stata portata poi in tutti i tornei del mondo E adesso Prima di essere poi Tranquillamente licenziata Questa fa parte del gioco È una partita che mi ha ricordato Una delle partite più divertenti Che io ho visto Nella mia vita Tu non eri nato Forse eri all'asilo Insomma Un australiano che si chiamava Woodcock E che era Contrariamente al suo passaporto Un giocatore di regolarità Contro Badge Petti Al Foro Italico Beh era una cosa di un divertimento Era Poteva essere Fai conto 53-54 C'è un progetto di break E gli è rimasta dentro Ma Hai visto? Ma che sensibilità Con la punta della racchetta ha fatto il do passante Guarda qui Già in ribattuta Poi Masso colpisce male Ma guarda come ha fatto il lob Guarda Incrocio Eis di Masso Laiani? Sì sì Svedese Nessuno lo direbbe Svedese Per sbaglio Lui è egiziaro di origine Eh vabbè allora Ma anche di controvazio Passante Passante di mezza volè Hai visto? Che non aveva sbagliato Masso Di andare a rete Su quella palla lì Quindi 4 a 2 C'è il break E guarda lì Passante Guarda che coordinazione Che ha tenuto Poi ha giocato Buon dritto di Masso Non so cosa ne pensi tu Però mi pare Anche se magari Vivi a queste prove finali A questo torneo Che è una delle ultime prove Che lui giochi In condizione sicuramente migliore Dell'anno scorso Beh che c'era il problema D'azione di energia Molto buona quest'anno Forse ha giocato anche Qualcosa di meno Da quel punto di vista Qualche volta Gli infortuni aiutano Perché obbligano Il giocatore a fermarsi Che il giocatore Magari non si sarebbe fermato Nella stessa situazione Occhio di Falco Ed è buono Eh vedi l'occhio Lui ce l'ha lui L'occhio di Falco Guarda è buono Eh sì è buono E lo stava preparando Ce l'aveva In canna Questo colpo Lo ha tenuto lontano Appena l'altro Ha accorciato un po' E ha spostato un po' E' importante avere Un gran servizio No non c'è dubbio Poi in generale Il talento Non è strettamente Collegato ai colpi Il talento E' una dote Del saper gestire La partita E' mica male Impressionante E' un rovescio In lungolinea Impressionante perché Questa palla Non era mica tanto alta No no Soprattutto di rovescio Da tre quarti Guarda come si carica In posizione chiusa E lascia Fino adesso Però Questa volta Non ha fatto tutto Perfettamente No l'attacco Non era Non era così E' un'attacco A profondo Se l'hai presa Un po' comoda Comoda Vuole di dritto Una buonissima seconda Di servizio Secondo dei due tornei estivi Invece di Cincinnati Lui Aveva vinto In Canada E' E' andato in campo Con l'idea Ma perché Perché sto giocando E questo non Non aiuta Ecco No poi ha le difficoltà Attenzione Attenzione Perché c'è Palla a breccia Però Ace Io cito sempre Quella parte E' il passante Abbastanza comodo Per Massu Set point Federer Ne ha avuto Già uno Sul servizio Di Massu Nel game precedente E vabbè Sulla rabbia Ce l'ha meno Guarda E' andato a giocare Di dritto Dall'altra parte E il campo Si libera Bravo Grande accelerazione Grande anticipo Soprattutto Molto difficile Tra l'altro La palla di Federer Era molto avvelenata Con taglio indietro Bassa Piuttosto bassa E' riuscito a incocciare Bravo Era giocato Una buona volina A lungo Più una Volina difensiva Quella di Federer Di più non poteva fare Esatto Era legata Alla concessione Da parte degli organizzatori Di una wild card Al suo connazionale Vavrinca Non lo so Tutto possibile Ma insomma E' la Grande Massu qua Ancora Ma io Comunque bisogna dire una cosa Che sono tenuti a giocare Tutti i Master Series Si però sai E' chiaro Sono tenuti a giocare L'anno scorso L'ultimo tornello Si è chiaro Cioè nel senso Che tu non puoi Non puoi obbligare Uno che magari Dici io mi sento male O anche senza Sentirsi male Ma che stai benissimo Si ha questa tendenza Buona accelerazione Di dritto Sulla quale Staggio Federer ecco qua il break abbiamo avuto proprio in queste è stato una decina di giorni con noi il più grande esperto di biomeccanica del tennis professor Elliot professor Elliot australiano che lavora nella città di Western Australia a Perth e devo dire che le sue elezioni sono state davvero illuminate 6 ace per Federer e 2 per Masu ecco loro 7 per la Petrolo presto e non era facile che ha fatto scendere troppo la palla e stanno giocando da circa un'ora e mezza perché ripeto lui è uno che prima di essere pronto a servire deve fare mille riti sticca Massu e la partita sta morendo questa rimane in campo sorride Roger l'aveva lasciata probabilmente che di là c'è un fenomeno bisogna subire questo è un colpo straordinario questo è il colpo della ragia è stato jolly ecco qua ecco qui ha chiuso il match Federer 6-3, 6-2 insomma al di là dei valori non ha neanche il tipo di gioco Massu per poter Federer trova poi non è questo il caso ma in generale dico può sempre trovare la soluzione mentre con giocatori magari come come me